Edda Forlivesi, la fiola piccola soffretta, il suo nome è la socca d'alfamei. Mi scuserete, io ho la pronuncia fusignanese, non ho quella di Alfonsine, anche se Alfonsine ho passato molti anni della mia vita. Ma io ho la pronuncia del mio paese. Cos'è questo libro? È un libro che raccoglie soprannomi? C'è solo un elenco di soprannomi? No, non c'è solo un elenco di soprannomi. L'argomento del libro sta proprio nel sottotitolo, la socca d'alfamei, cioè i legami di parentela. Questo libro racconta i legami di parentela della comunità alfonsinese. Cioè è un racconto per genealogie. Quando io ero molto più giovane e la domenica pomeriggio si usava andare a trovare i parenti oppure i parenti venivano a trovare noi, io di solito accompagnavo mia madre e le mie sie a trovare i parenti che stavano fuori. I miei venivano da Solarola e quindi si andava da quelle parti. E quando si arrivava, dopo i soliti convenevoli, come stai, come non stai, la conversazione finiva per andare proprio a finire sui legami di parentela, cioè a raccontare le genealogie. Si ripercorrevano la storia delle famiglie, la storia lontana ma anche la storia recente, matrimoni, figli e così via. Perché la memoria dei legami di parentela è sempre stata molto importante nelle nostre comunità. che è curioso, ma di cui pare certa l'origine, è quello dei Grossi, che aderea stupereit necvicalepp, Vittorio. Acquisiti. Acquisiti. Che dice Meve, pesa l'aria. Allora dice, racconta l'Edda, Già nel 1891 la famiglia Grossi gestiva uno spaccio con annessa a rivendita di generi alimentari. Si dice che la famiglia venisse chiamata pesa l'aria per la pignoleria con cui rispettava il peso dei prodotti venduti. Che bella come. E i sei rinventei, ecco tra i fatterelli che poi vengono a galla in questi racconti, i sei rinventei l'acqua americana. Sì, sì, il negozio aveva acquisito, dice Ledda, una notevole popolarità per la vendita di quest'acqua americana. Il lunedì mattina, giorno di mercato, c'era la fila della gente che veniva ad acquistare e bere in loco un becchiere di quest'acqua miracolosa, che aveva la proprietà di liberare l'intestino un po' intasato. Il prodotto miracoloso di cui nessuno poteva conoscere il segreto, io stessa, dice lei, l'ho appreso soltanto nel 1960 dalla zia Maria Grossi, altro non era che acqua piovana raccolta in grossi contenitori, filtrata, alla quale veniva aggiunto un po' di sale marino imbottigliata per la vendita. Ledda ha scritto, oltre a questo libro intitolato I Soranom, anche una poesia intitolata I Soranom. E adesso le chiediamo di recitarla. Io non mi ricordavo più di averla scritta, anche perché è di qualche tempo fa, e è in un libro recensito da Don Fuschini, perché io vado e viaggio così, Don Fuschini, Bellosi, e avanti di lì, insomma adesso dopo cosa facciamo? Allora, io ce l'ho però con questi soprannomi, che non sono i soprannomi di cui ho parlato adesso, sono i nomi che vengono dati ai nostri figli nel momento in cui, si dice così, nel momento in cui leggiamo Grandotello. Allora, cosa succede? Adesso mi dresso. Io ho capito un po' di comitia, però io sono un turco, insomma. Però, il credo, chi è il che in tuo paese accompagna a me? L'acqua c'è mi è Samantha oppure Denis. In do, che per circa un quicadun, stanno conosce solo il nome, tant'altro insomma. Car dimmi, aia era il nitt più bello, circa battendo il cencio di Canarello, Mario è soffritto in un minuto di Boudella, al Dottelin, la Sara e la Sucurella, m'ingottamento Berto di Pittore, al Sarafan, la Fiola dei Cantori, Ivo di Padella e Mario di Vincinçon, l'Eva di Zaveri, Tony di Clumberon, la Pina di Borce e tutti i Anzulinà, Svaldo, Larina e Berto Scaranà, Pio di Boulé, Ivig, l'Anna di Marron, Tino, la Stassa, l'Isa di Samurano, m'ingottamento Andrea Cagarotti, i fiul draddaccio e poi Pino Zulotto. Ma, roba vecchia, hai scritto perché mi l'ha detto, ma per esempio, solo hai da soffritto, proviamo adesso, proviamo se si può taccare il suo rinomino in cui c'è dunque. Servizio a me per nome, Vos Burdell, Burdell, e bisogna prima l'eser grand'hotel. Marit, Simon, Patrick, e Denis, senti poco qualcosa che mi tocca a dire, Alex, Samantha, Jessica, Vanessa, Monia, Manolo, Attila, Rubess, Katusia, Natascia, e Pugna, e Pugna il Pio, ma come asfal, proviva di malvò, a me s'era smanga, chiaramente sin di, Efren, Sirto, Petra con Rami, a starbassa, cosa hai vut da che, cosa pensavi con chi è indesnì, cosa chiamess, Manolo, di Fraschina, Samantha, di Morcia, Efren, Scaranà, tenit pistolas, ares, e Cristian, che sarebbe più albazata, ma come che sono, ma come che sono, le come di Mimì, alla Zabariona. Raffaello Baldini, che, in un suo testo, parla, un po' degli argomenti, di cui si è parlato, questa sera. La poesia di Baldini, si chiama, forastire. Vamo, con chi mutur, vamo, un arverso, mo le pia, l'ente canto della cisa, una certora, tani peas, e tutto l'equibacà, e me ne dice lei, vai, vai, che le trasera sono svegli, c'ho una freniera, vamo, am veta dos, e poi, a sostellare a guarder, me questo è il cnoz, amo, ci è fiol di Vittorio, most'è si tanto, che andi per la strada, e qui c'è la con la maia rossa, vieni qua, vieni qua, le invo, tristì, no? Un'e tu non è, tristì? Ma tant'è fiol di Dugo? Ma chi si? e l'uomo ha detto un nome, che non mi ha colpito, cavalli, marietti, no? Un nome che c'è, che non aveva mai sentito, barbieri, non, che ne è, e dice che sopra la lavora di marini, i vedi fuori, a quei us vedi, costa mai, ciò, ieri, e, 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 a quei capelli, a quei giorni, abbiamo, un sveglio del fatto di fasi, abbiamo, in dipartate, in banca, in te consorsi, in poste, che ogni tecmo, abbiamo, e quel chiel, zainte nuove, mai vesti, che dal vuoto, dal vuoto d'ecco, abbiamo, e fu restito, a quei assomè, abbiamo, anche noi, abbiamo la piancione, abbiamo, qui di poste, abbiamo, qui chi è noi da quei, non so, ma io era qui su diretto, o non vuole di niente, abbiamo, e in cui, abbiamo, che per fium, con corso, abbiamo, abbiamo, abbiamo pulvoli, che è, abbiamo, abbiamo, è nostro, ci è tutto, qui è, abbiamo, l'amore, c'è, voilà, che con bonini, a ir, un'eterpo, a bravi, abbiamo, abbiamo, questo, l'egoismo, diz lì, abbiamo, come un sveglio, abbiamo, questa è, 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 e ha da campione tutto il mondo. La gente mi ha detto che fosse un giorno e non c'è un invidio, e ho i miei lavori, le che bonini, che vedi la mia scuola, e me, me, che è sempre, non è che io, che ho deposto il parquet, a veneva dei sentieri, e vedi tutti i miei, un'è che ha tenuto, no, un anno, due anni, e vedi tutto che non vedi, a c'è appena per me, un'espazione, arriva lì, a pacciare, le pietre gramegne, a pulire i tratti, e poi ti torna in drì, a dire un po' in qua e là, c'è un po' da camminare, e vedi sempre drì che lavora, che è grande, e riuscire che bella in suostrì, e poi vedi sempre di nuovo, e dà fuori di botta, oh, all'è, guassa, e questo, le diego, e poi che scuola, e quelle sono reali, c'è la blanda in terra, come Pucanzio, Nando Ricci, oi, a quell'esghetta, e faceva di garrattoni, non sapeva, e questo, e questo le rivedeas, l'ha solo un numero, ma la darea scarabai, e la portavia, e la portavia, che avevi fatto, mosca, direni, osce, moque vè, a posti qui all'a toque, le comarese vè in piazza, hai t'innoche tutto quente, bravo, Marco, bravo, 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 Grazie Marco, grazie Edda che ci ha intrattenuto come a un treppo di una volta, grazie a voi che avete partecipato così numerosi e grazie al Comune di Alfonsine che ci ha inserito in questa rassegna.